Io, io davvero non so cosa dire oggi, cioè dire che sono desolato, dire che sono avvenito, dire che sono deluso, è ben dire poco, ben dire poco stasera, ben dire poco. Te giochi una partita che ti sbagli l'impossibile, specie quando il sito ha segnato, Lukaku porca puttana, anche Lukaku e Lautaro praticamente hanno sbagliato l'impossibile, probabilmente i peggiori in campo, probabilmente. Oggi si vede che qualcosa non ha funzionato, eppure nel primo tempo comunque si era visto qualcosa di buono che poteva darci un risultato diverso. Ma comunque abbiamo pagato troppo gli errori sottoporti in questa partita, purtroppo c'è da dire questo. Però c'è che dire, usciamo con la convinzione di saper giocarsela alla pari contro la squadra più forte del mondo, perché questa è stata la squadra più forte del mondo, perché questa attualmente è la squadra più forte del mondo. Purtroppo si è incaduto in finale contro un club di plastica gestito dagli sceicchi arabi con i miliardi che per loro era la più ossessione che mai vincere questa coppa. E vabbè, li posso capire, hanno speso metà patrimonio per farsi la squadra per vincere questa coppa, quindi è una cosa anche normale. Però voglio dire, nel primo tempo c'è avuto un sacco, nel primo ma specialmente nel secondo c'è avuto un sacco di occasioni con Lukaku che di testa la punta addosso al portiere Ederson, che si inventa una parata miracolosa all'ultimo secondo, cioè alla fine era proprio scritto nel destino che la due hanno vincendo quest'anno, alla fine era proprio scritto. Però io avrei voluto vedere, se la Juve o il Milan che tanto dicevano che avremmo vinto sicuramente così tanto per Gufa, io sarei stato curioso di vedere come avrebbero giocato loro, forse avrebbero preso anche più gol di noi. E nulla, adesso prossima Champions League, io lo dico, potremmo arrivare in fondo anche alla prossima, visto che comunque di esperienza quest'anno l'abbiamo acquisita anche tanta. E basta, perché tanto non è che c'è tanto a commentare, la partita è stata, doveva, dicevano tutti, doveva essere senso unico, doveva essere senso unico, l'Inter ha rischiato di vincerla anche più volte, anche prima di subire il gol da Rodri, che tra l'altro lì è errore della difesa, ma è successo un casino in quel gol, Rodri non lo marcava nessuno, è venuto da fuori aria e ha segnato un tiro imparabile praticamente, quindi di che stiamo a parlare? Adesso mettiamoci l'animo in pace, usciamo da Isopul con tantissimo amare in bocca, ma proprio mi dispiace un sacco, un sacco mi dispiace, perché alla fine portiamo tre italiane nelle finali europee e nessuno delle tre italiane vince, cioè sembra una cosa fatta apposta, c'è più successo anche di tutto, c'è successo di tutto, di qui e di là e niente, purtroppo dobbiamo accettare questa realtà, però andiamo avanti, rimbocchiamoci le maniche e puntiamo alla prossima impresa, sempre forza Inter ragazzi, nel bene e soprattutto nel male. Grazie a tutti.